Beni per 7 milioni di euro sono stati sequestrati stamane dalla Direzione Investigativa Antimafia di Catania, Giuseppe Faro, imprenditore di Palagonia, proprietario di diverse aziende edilie di Movimento Terra e di Due Cave. Giuseppe Faro viene ritenuto dagli inquirenti inserito nell'organizzazione del clan La Rocca, affiliato alla famiglia mafiosa Santa Paola. Il sequestro è stato disposto dal Tribunale di Catania e riguarda quote societarie ed aziende, numerosi fabbricati e terreni, autoveicoli e conti bancari e postali. Faro è già stato condannato in primo grado a 6 anni e 6 mesi per diverse rapine e corrito abbreviato a 3 anni per estorsione aggravata dal concorso esterno in associazione mafiosa. Il suo nome è emerso anche nell'indagine Iblis. Un'intercettazione ambientale ha infatti svelato i legami tra Iello, rappresentante catanese di Cosa Nostra e l'imprenditore. Insieme i due avrebbero favorito l'illecita giudicazione di gare di appalto.